Flavia, un romanzo è un po' come un messaggio in bottiglia. I messaggi in bottiglia mi hanno fatto sempre pensare a quei razzi di segnalazione delle navi che vengono sparati quando sia un'emergenza, quando si vuole segnalare un pericolo. In entrambi i casi, ciò che spinge a infilare un messaggio in una bottiglia o a sparare un razzo luminoso nel mezzo dell'oceano è il bisogno di dire, di comunicare qualcosa a qualcuno. Di lasciare una traccia, insomma, perché il mondo sappia che c'erano anche noi su quell'isola deserta o su quella nave persa chissà dove che abbiamo sofferto o siamo stati felici. Per questo un romanzo è un messaggio in bottiglia perché in fondo il motivo che ci spinge a scrivere è lasciare una traccia che quel messaggio arrivi il più lontano possibile al cuore e alla pancia di chi ci legge che entri nel suo immaginario e generi altre storie. Sì, perché proprio con un messaggio in bottiglia le idee girano, viaggiano, migrano una ne genera un'altra. Se così non fosse avremmo scritto tutto quello che è possibile scrivere visto che le trame fondamentali sono sette si contano sulla punta delle dita e avanza anche posto. Le trave sono sette e le variazioni sono infinite un po' come accade per le note musicali. Se così non fosse nessuno scriverebbe più ogni storia ne genera altre. Per questo quando ci incagliamo in una manciata di righe e non riusciamo più ad andare avanti la cosa più saggia che possiamo fare è mettere via quello che stiamo scrivendo e leggere altro. Leggere il più possibile qualsiasi cosa ci capita a tiro. È un suggerimento che vale anche quando fila tutto più o meno liscio e scriviamo una pagina dopo l'altra. Aprire il libro di qualcun altro ci può aiutare a svoltare una storia a trovare quell'immagine che può diventare la chiave di volta di tutto e quella manciata di righe, quell'immagine altro non sono che una traccia un messaggio in bottiglia che sfida maree e correnti o un razzo di segnalazione che ci riporterà dritti a casa. Farmacia Letteraria Un podcast della scuola di scrittura Genius Se avete una domanda mandate un vocale 351-877-9461 Radio Genius Se ti piace, metti mi piace